Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Sono con i componenti della squadra Preci e Bianche, Triathlon Team e Cycling Team. Proviamo a realizzare un bel video action. Tutto ok? Qui sarebbe proprio il top, tirare fuori 30-40 secondi di clip. Facciamo la macchina fotografica Marta, lei con un braccio solo, vedrà di scattare qualche bella foto, gli do una mano anch'io. Ce la possiamo fare ragazze dopo. Abbiamo fatto un bel punto da fare, un bel passaggio. Facciamo due foto e poi facciamo anche una breve clip. Ci sta. Una guarita. Ciao. Adesso vogliamo ancora salire su quest'albero qua, per fare una ripresa su questa curva qui. Quindi mi arrampico. Ciao, dopo. Fantastica partita. Dobro, ferma il video. Arresta. Arresta. Lì potete vedere Peppo una macchiolina dispersa nella giungla, deve essere così la situazione ragazzi. Guardate che posto. Grandi ragazzi, grandi, si scatta di brutto. Oggi la compagnia è veramente ottima. Dobbiamo distruggere la GoPro, la poggiamo qua per terra e il Jan ce la salta. Sì, ce la fa, ce la fa. Dai! Grande, grande Jan! Tutto bene. Perché ci hai abbandonato? Perché ci hai abbandonato? Avevo più voglia di vederti Peppo. Andiamo a fare un giretto fatto bene. Andiamo. Manetta! Ciao. 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 Ho provato a questo video. Ciao. Ciao.